Allora, ciao! Mi hanno pagato per far sto video! Ma stai iniziando male, te lo dico! Sì, ci vediamo! Allora, no, mi stai urtando proprio il sistema nervoso. Dato che i rapporti tra me e Cristian sono cambiati, ora facciamo tre di fatti in l'uno e tre di fatti in l'altro. Ma guarda, sono sempre gli stessi. Comunque, vai! Cosa? Quando c'è una discussione, ma una discussione tipo un litigio, o anche solo una discussione, non fa finire di parlare. Non è vero, non è vero, assolutamente non è vero. Si è appena visto! Non è vero! Vuoi sempre avere ragione. Ecco, ho ragione. Non hai ragione? Si. No. Non hai detto che... Cristian, dai un po' di... Non hai detto... Ah, la mando in pappa! Dai, principe! Mi chiami principe perché lo sembra? Non posso mai chiamarti, è l'unico... Mi hai toccato la caviglia. Secondo difetto. Secondo difetto. Non ne ho perché sono perfetta. Secondo ne ho nei troppi, sto cercando quali sono i più... Non ascolti. Ok, io la cerco di aiutare. Lei riceve il mio aiuto perché mi ascolta. Mi ascolta, mi ascolta ma non ti ascolta. Io gli dico una cosa, lei mi ascolta anche se io comunque gli faccio capire che sarebbe la cosa migliore da fare. Mi fa sì, sì è vero, è vero. Però faccio di testa mia, come mia madre. Lei non è qui, lei ti puzza nei piedi. Ti puzza nei piedi. Cristian, ti lo giuro. Ma che cosa che mi guardi così? C'è io che mi guardi così. Non ho visto tutto perché ti mi guardi. C'è no. Hai uno scudo, cioè hai una maschera che usi e mi fa arrabbiare. Perché con le altre persone non sei la persona che in realtà tu sei. E questa cosa mi fa arrabbiare perché gli altri non riescono ad apprezzarti al 100%. Una bella cosa, cioè in verità è bellissima, è bellissima, è vero. Io apro me stesso solo a persone che se lo meritano. Non dovresti. Se non te lo meriti più. Ma non voglio meritarne, va benissimo così. No? No. Hai fatto la proposta di matrimonio l'altro giorno. Pomerino. Ultimo dai, questo video deve finire perché non ne posso più. Cristian. Dimmi. Ma non mi si viene. Ultimo ma non meno importante. Dai, che mi basta. Finito di video. Dai, dai.